Buongiorno, sto finendo di ultimare il nostro primo singolo che uscirà... Stiamo cercando di sbottare l'armadio delle scarpe e... Cioè, abbiamo fatto un armadio solo. Questa sera DJ Set, non mi ricordo bene dove, ma mi sto preparando per andare. Da notare la mia bellissima giacca sobria. Sobriato! Sto finendo di ultimare il nostro primo singolo che uscirà il... Mi sto preparando per andare a fare un bellissimo DJ Set. Suoniamo tipo alle 3 di notte! Adesso vi farò vedere la mia bellissima giacca sotto DJ Set. Sobrietà, che rock e bomba!